Quella che era sulla carta la più forte del Gino Sì però mi unisco a quello che dici per un complimento a Leo che saluto con grande affetto E che questa tensione lui l'ha sentita poco Ciao chiesi Grazie Questa tensione l'ha sentita poco perché mentalmente è stato molto forte Da tanto che è molto forte poi adesso sono contento che ho imparato anche a lanciare Quando c'ero io non me ne metteva una Però per cui è diventato un giocatore direi completo Perché lui preferisce già Chiarini a te non ti sta Sì non capisco questa antipatia ai miei confronti ma l'accetto Insomma siamo qui in un momento felice Perché io mi esaltavo a dartela sui piedi dai Ecco Hai capito? Perché io non andavo in profondità stai dicendo vero? Sì non lo aspettavo che chiedessi tu per rispetto Ma io io lei mi assaggia la carta Non fugga anche da te Grazie Grazie